Ecco il primo gol, Müller batte una punizione, tutti guardano e la palla finisce in rete. Questa volta sull'altro fronte è Altobelli che cerca il tedesco, lo vedete Baresi ed è il Müller a girare rapidissimo a rete. Belli imbeccata di Müller ancora per Serena che viene atterrato da Sorrentino, l'arbitro decreta il rigore. Altobelli apre la sua serie di marcature, nella ripresa Muraro è entrato da poco, mette al centro, Muraro sbaglia l'intervento il difensore del Catania e Altobelli raddoppia le proprie marcature. Ancora in bella evidenza l'Inter e ancora Altobelli che gira di piede e Sorrentino non riesce a trattenere. Altobelli è senza dubbio scatenatissimo, serve Baresi, Müller, Müller è proprio lui, serve Altobelli che tenta due volte prima di infilare. L'applauso del pubblico e l'abbraccio tra Müller e Altobelli dovrebbe mettere fine alle polemiche di questi ultimi giorni tra i due giocatori. A te valenti!